Cristiana Varuni ha 20 anni e un sogno, diplomarsi. Lo scorso 12 dicembre però, quest'istituto superiore che ha frequentato per 4 mesi, il Melissa Bassi di Napoli, l'ha cancellata dall'anagrafe scolastica perché disabile. Con due righe il dirigente scolastico ha cancellato le speranze di questa ragazzina, ha scritto difetta dei requisiti anagrafici necessari per l'iscrizione presso il nostro istituto. Ma il papà Onofrio e mamma Marinella non si sono arresi. È stato stabilito che Cristiana per gli anni futuri poteva andare a scuola. Io non riesco a capire perché c'è una sentenza, c'è un magistrato che ha deciso un giudice e la scuola deve accogliere tutti. Lei avvertiva che lì c'era un po' di ostinità, non dovuta a lei, cioè certamente non era colpa sua. In aiuto di Cristiana, i compagni di classe, gli amici, i parenti e l'associazione tutti a scuola che lancia un appello al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Venga in quella scuola, apra i cassetti di quella scuola, vada a vedere se quella scuola aveva messo in atto tutte quelle che sono le misure previste dalle leggi che tutelano la disabilità nella nostra scuola.